L'appartamento è bruciato in parte, apparentemente non ci sono problemi strutturali, ci sono ancora le cause in corso, quindi certamente sono ancora in corso. Buongiorno. Normalmente non diamo per scontato niente, quindi una volta verificato, fatto tutte le indagini di competenza possiamo magari decidere oppure presumere quali sono le cause dell'incendio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.